Di vieto di avvicinamento alla persona offese dei luoghi frequentati da quest'ultima è messo dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce nei confronti di un 37enne a cui sono stati contestati vari reati che la legge definisce da codice rosso che vanno dagli atti persecutori ai maltrattamenti in famiglia fino al danneggiamento doloso a seguito di incendio. Ad eseguire l'ordinanza di misura cautelare i carabinieri della stazione di Matino, i militari erano intervenuti la notte tra il 27 e il 28 dicembre di due anni fa per un incendio avvenuto in pieno centro che aveva coinvolto sette autovetture e due abitazioni, la seconda a mancaversa. La delicata indagine portata a termine dai carabinieri ha permesso di fare piena luce sull'ennesima storia di violenza domestica, di soprusi, vessazioni e botte da orbi ai danni della convivente dell'uomo anche in presenza dei loro figli. Alla fine, speranzosa di rifarsi una vita, la donna aveva troncato la relazione con il compagno violento e si era trasferita dai genitori ma il peggio doveva ancora venire. Infatti, quando ha scoperto che la sua ex aveva allacciato una relazione sentimentale con un altro uomo, il 37enne ha maturato un desiderio di vendetta nei confronti della nuova coppia. Sono quindi cominciati i pedinamenti e gli appostamenti, compresi gli insulti e le minacce, fino ad arrivare agli atti incendiari di fine dicembre del 2022, quando in meno di un'ora sono state date alle fiamme sette autovetture e due abitazioni, tutti obiettivi riconducibili direttamente o indirettamente alla donna e al suo nuovo compagno. Quest'ultimo, anche a giugno di quest'anno, mentre si trovava alla guida della sua auto, aveva subito un tentativo di speronamento dal suo persecutore, fortunatamente senza conseguenze. Alla fine, le testimonianze e le numerose fonti di prova a carico dello stalker 37enne raccolte dai militari dell'arma hanno messo in condizione il pubblico ministero di ottenere dal giudice un divieto di avvicinamento e di comunicazione a tutela dell'uomo, vittima di atti persecutori.